Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore oggi si avvolge, si arricchisce, si nutre, si manifesta la benevolenza del Padre in Gesù Cristo, donandoci ogni dono di grazia. E noi diamo l'odio al Signore, usando il Salmo che la Chiesa ci offre oggi. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'Assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore e esultino nel loro re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con tamborelli e cedere gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorrano i poveri di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacelli, le lode di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. E la lode di Dio, fratelli, Dio se la procura con le sue stesse opere. Le opere che Lui compie sono la sua lode. Lui è la lode. Dio è la vita. Dio è vita. Dio è amore. Quando ci accostiamo a Lui, non ci accostiamo a un oggetto, una cosa, una meta, ma ci accostiamo alla vita. Dio è la nostra vita. Come dice l'Apostolo Paolo, per me è vivere. È Cristo. Cristo è la mia vita. Lasciarmi amare da Dio e amare il mio prossimo. Questa è la mia vita. E lo troviamo nelle opere anche di San Paolo. Voi sapete che negli atti degli Apostoli, soprattutto nella seconda parte, si parla principalmente dell'Apostolo Paolo e lui viene accompagnato in questo secondo viaggio da alcuni discepoli, Timoteo, e in modo particolare San Luca, che era medico, che si unì a lui. Infatti, negli atti degli Apostoli, nella prima parte, San Luca racconta cose avvenute di cui aveva sentito parlare. Nella seconda parte, parla in prima persona, come persona direttamente coinvolta in questa missione a cui il Signore aveva chiamato, cioè ad accompagnare l'Apostolo nel suo viaggio missionario e a sostenerla nella sua opera. Racconta, infatti, facemmo veda direttamente, facemmo, San Luca che racconta, qui, parlando in prima persona, vuol dire che era presente. facemmo veda direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli ed è qui a Filippi, colonia romana, e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera e dopo aver preso posto, rivolgemmo la parola alle donne li riunite. E' caratteristico questo, fratelli, non trova San Paolo molti uomini, come nel nostro archivio, principalmente, noi troviamo le donne attente a seguire l'opera di Dio e a partecipare alla preghiera. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di Porpora della città di Tiatira, una credente in Dio e il Signore gli aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia e qui notate quando si parla di famiglia si includono anche i bambini perché una volta nelle famiglie i figli seguivano le scelte dei genitori e questo non era un'imposizione ma una comunicazione, un'associazione naturale perché i figli tendono a condividere la vita dei genitori e quindi anche la fede. Quindi non è peccato come tanti ritengono istruire i figli nella fede come se si volesse usurpare o tradire la loro libertà. anzi è una vita tardi. Quindi questa donna Lidia accette il battesimo con tutta la sua famiglia e invita l'Apostolo Paolo e tutto il suo seguito ad alloggiare presso di lei. se mi avete giudicato a federe al Signore venite e rimanete nella mia casa. Vedete come lei si lascia coinvolgere nell'opera missionaria e ci costrinse ad accettare ci costrinse guardate che bello fratelli questa donna non era invalente ma era decisa risoluta nel seguire la via che il Signore ne aveva indicato e questa figura fratelli è molto illuminante nel libro degli atti degli Apostoli e il suo cuore era aperto al Signore aderì alla parola di San Paolo si fece battezzare insieme a tutta la famiglia quindi fu molto risoluta nell'aderire e nel guidare anche i suoi cari e non solo ma mette la sua persona e la sua casa al servizio del Vangelo non è una rassegnata vedete quali personaggi noi troviamo fratelli nelle opere di Dio anche ai nostri giorni persone famiglie che sono determinanti nella vita delle parrocchie ho incontrato una volta un sacerdote che era nella sua parrocchia da 40 anni che viveva presso una famiglia che si era sacrificata per la parrocchia questa sordote ha bisogno di sostegno da solo non aveva molti mezzi quella famiglia si mise a servire per glorificare Dio non per averne vantaggi economici o altri e nel Vangelo che noi leggiamo oggi il Signore ci mette davanti a quella che è il dono dello Spirito Santo quando verrà lo Spirito il Paraclito che io vi manderò dal Padre lo Spirito della Verità che procede dal Padre egli darà testimonianza di me e anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio vi ho detto queste cose perché non abbiate scandalizzarli vi scaceranno dalle sinagoge anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà di rendere culto a Dio Gesù non risparmia gli Apostoli i rischi nella fede ci sono paesi fratelli dove essere cristiani vuol dire essere perseguitati essere cristiani non diresti continuamente a rischio di persecuzioni ci sono certi paesi dove non c'è giorno in cui non si sente parlare di attentati anche di uccisioni eppure tanti rimangono fedeli alla parola di Dio Signore Gesù avvolgeci tutti nel fuoco dello Spirito Santo come toccaste un giorno il cuore di Lidia e della sua famiglia per mettere il tuo servizio oggi rinnova tante famiglie che non si limitino semplicemente a compiere dei precetti settimanali o annuali ma che diranno la loro vita tu vuoi che ogni famiglia sia una piccola chiesa tu vuoi che ogni parrocchia sia l'unione di tante famiglie che si riuniscano insieme per formare il tuo popolo santo accendi questa fiamma d'amore tu vuoi tirare fuori la tua chiesa Signore di Astarti di mediocrità di paura accendi anche in mezzo a noi questo fuoco ardente perché non viviamo più per noi stessi ma per te che sei morto e risolto per noi e che troviamo la nostra vocazione nel dedicarci a te nel tuo servizio questa è la nostra gloria questo è il nostro vanto questa è anche la nostra ricompensa vivere di te con te e per te a te gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen Vergine Santissima noi ti benediciamo ti lodiamo in te il Padre ha voluto glorificare la sua opera nel condurti alla pienezza della gloria attiraci per questa strada nel dedicare noi stessi a Gesù tuo figlio nostro Signore che vive il regno per tutti i secoli dei secoli Amen e questi esempi oggi fratelli ci spingono a lasciarci coinvolgere all'opera di Dio il Signore vuole agire ma salventosi anche della nostra collaborazione a Lui sarà anche la nostra notte per sempre Amen Grazie